salva a tutti altro esercizio che io faccio spesso per allenarmi è tirare al bull e un doppio ok adesso ad esempio l'ho messa sul 16 doppio che quindi farebbe 82 che sarebbe la chiusura dell'82 50 32 ma voi potete fare anche 50 36 50 40 che sarebbe 90 questo per allenarsi a prendere la misura tra il bull e un qualsiasi doppio che voi decidiate questo è solo allenamento per per l'occhio saluta a tutti